da Ivo May che si trova all'auditorium Parco della Musica per una rassegna molto importante e con lui è anche un nostro giornalista, un volto noto della televisione, prego Un personaggio di peso del giornalismo italiano Riccardo Iacona ma volevo dirvi che siamo in una splendida giornata di sole quasi preestivo qui all'auditorium Parco della Musica come mi ha anticipato davanti a una gigantesca balena fatta di 250 kg di plastica che è l'equivalente di quello che viene disperso negli oceani al secondo, ogni secondo una balena come questa va a finire negli oceani ed è una rappresentazione di una delle cose che vengono illustrate qui al National Geographic Festival delle Scienze dell'auditorium Parco della Musica con il quale voglio iniziare con una citazione di altri tempi fortunato è colui che conosce la causa delle cose lo diceva Publio Virgilio Marone e di fatti la causa delle cose è proprio il tema di questo National Geographic aspetta aspetta Ivo, aspetta un attimo infatti Riccardo Iacona è qui come esperto di causa delle cose, di molte cose sì, allora io intanto appunto do anche da parte mia il buongiorno a Riccardo Iacona adesso sentiamo le battute dei protagonisti buongiorno, buongiorno voi siete in un posto in cui si riflette sul presente e sul futuro diciamo globale dell'umanità per i motivi anche che Ivo Meici illustrava noi siamo necessariamente concentrati sulla fase politica volevo subito una battuta da Iacona proprio sulla congiuntura attuale su questo stallo politico come pensi se ne uscirà Riccardo? ma intanto mi sembra che queste consultazioni sono ad excludendum nel senso che oggi pomeriggio sapremo forse definitivamente che l'idea dell'incontro fra il centrodestra unito ancora e il Movimento 5 Stelle potrebbe naufragare definitivamente poi bisognerà vedere che cosa rimarrà del centrodestra sarà interessante sentire i vostri ospiti su questo questo è se effettivamente è una compagine che può reggere alle prossime consultazioni e infine mi aspetto che prima o poi ci dicano a noi all'opinione pubblica, a noi giornalisti su quali contenuti cercano questi contratti perché questa è la partita che è completamente sparita dopo i tanti annunci in campagna elettorale le mirabolanti promesse improvvisamente i contenuti sono spariti dal tavolo della politica e si parla solo di formula tranne farne delle polemiche sul programma prima e il programma dopo no no ma diciamo che ci aspettano ancora settimane intense hai ragione adesso poi vedremo perché a proposito la cosa delle cose bisogna vedere qual è allora sì a proposito di contorno da intanto Riccardo Iacona per chiedergli cosa pensa di questi sei punti e dal suo punto di vista su questi sei punti quali sono le convergenze, quali sarebbero le convergenze possibili tra le forze politiche? sono punti semplici diciamo anche di buon senso non so se sono sufficienti come piattaforma di un governo per tirare fuori l'Italia dalla crisi cioè il compito è enorme, è epocale cioè qui bisogna capire per esempio tutta la politica di incentivi alle imprese, al lavoro il Jobs Act se ha funzionato o non ha funzionato se bisogna implementarla oppure no che cosa facciamo in politica estera ma come usciamo soprattutto dal laccio dell'austerity che è un po' la questione delle questioni sulla quale si sono impiccati tutti i governi del presidente da monti in poi cioè io lo trovo molto interessante, simpatico ma un po' poco, ecco se devo dire la verità diciamo che non c'è una prevalenza del buon senso comunque in queste consultazioni no forse? no ma il tema dei contenuti non è un tema di polemica cioè voglio dire i partiti si sono presentati per vincere le elezioni nessuno le ha vinte no? certo colpa di questa legge elettorale però certo non è colpa nostra che siamo andati in massa a votare sarà colpa dei politici che avevano tutto il tempo di farla una legge elettorale non l'hanno fatta nonostante gli schiaffioni che Napolitano gli aveva dato quando gli avevano chiesto a Napolitano di continuare per la prima volta il secondo mandato però il punto è che mettersi d'accordo che i programmi sono molto diversi le ricette sono molto diverse lo dimostra il fatto che hanno messo un esperto della Lega a cercare di vedere con il lumicino quali sono i punti d'incontro non vorrei che questi punti d'incontro per mettere d'accordo forze così differenti alla fine siano un po' pochi ecco diciamo per rispondere alle grandi sfide comunque sai noi siamo giornalisti cioè il giorno che faranno il governo andremo sui contenuti e non faremo sconti a nessuno come abbiamo sempre fatto allora torno qui un attimo Ivo probabilmente basterebbe un anno per farle Ivo scusami no torno un attimo in studio poi dobbiamo parlare di un punto che manca dalla discussione e che credo interessi particolarmente Iacona che è la giustizia visto che ha scritto da poco un libro che riguarda da vicino la giustizia di questo paese soprattutto la mala giustizia Palazzo d'ingiustizia eh anzi abbiamo la copertina facciamola vedere di quest'ultimo libro di Iacona Palazzo d'ingiustizia da Iacona e Ivo May per parlare intanto diciamo qualcosa sulla giustizia no? eh sì certo come si diceva riprendendo il tema qui del festival la causa delle cose c'è anche una causa per cui molta politica ce l'ha sempre con la giustizia no? in Italia beh diciamo intanto che la giustizia funziona male non funziona e questi sono dati oggettivi da una parte e dall'altra che la tendenza da parte della politica di intervenire sui processi e sulle inchieste non è mai smessa diciamo da mani pulite fino ai giorni nostri è cambiata diciamo un po' di forma diciamo è diventata un po' più insidiosa e si è anche innestata direttamente dentro i meccanismi di scelte con cui vengono scelti le figure apicali delle procure in questo caso sto parlando del CSM il libro che ho scritto Palazzo di Ingiustizia parte è la storia puntuta giornalisticamente ricostruita del conflitto tra Alfredo Robledo l'ex procuratore aggiunto di Milano capo del secondo dipartimento l'uomo che ricordo l'unico insieme a Fabio De Pasquale ha fatto condannare fino in giudicato Berlusconi sull'inchiesta di Ritti Mediaset e l'ex procuratore della Repubblica oggi è andato in pensione Edmondo Bruti Liberale perché questa storia è interessante dal punto di vista giornalistico perché ci racconta quanto l'autonomia e l'indipendenza dei PM sono sotto attacco è una storia che ci riguarda tutti da vicino perché chiaramente se diciamo c'è qualche dubbio che le inchieste vadano dietro più a sensibilità istituzionali e politiche ogni arbitro è possibile ed è uno dei cardini diciamo del sistema democratico il fatto di essere certi che esista veramente un giudice a Berlino Sì, poi però voglio dire una cosa perché lo sa benissimo Riccardo Iacono a proposito dell'obbligatorietà dell'azione penale i fascicoli crescono sulla schivania di un magistrato può scegliere diciamo in maniera abbastanza libera no? quale affrontare quale caso prima e quale caso dopo no? Ma sì, ma questo è proprio diciamo la dimostrazione della difficoltà in cui si muove la macchina della giustizia noi abbiamo un ordine dello Stato che non dipende dal Ministero di Grazia e Giustizia che si autoregolamenta e si autocomanda con il CSM che è a garanzia che il controllo di legalità venga effettuato senza guardare in faccia a nessuno poi invece come raccontiamo nel libro nella cucina di tutti i giorni è come se si fanno le scelte e quindi questo della obbligatorietà dell'azione penale diciamo è ancora tutto da raggiungere no? cioè in realtà viene violato continuamente nel libro si raccontano episodi concreti con testimonianze perché l'esposto che Robledo fece nel 2014 al CSM non è un esposto da corvi con lettere anonime non è una guerra personale no? è piena di documenti di fatti testimonianze e responsabilità e noi diamo ai lettori tutti gli strumenti per decidere chi aveva ragione e chi no senti in un titolo mi dici solo un attimo solo arrivo in un titolo proprio perché fai questo mestiere quindi hai la capacità di sintesi visto che hai fatto questa lunga inchiesta ti chiedo però un altro aspetto qual è lo stato dell'arte della giustizia civile dal tuo punto di vista c'è stato qualche miglioramento? no ma guarda sì ma i miglioramenti di registri sempre con delle percentuali troppo basse ancora cioè è ancora l'ingiustizia che comanda ma non solo sul civile dove è particolarmente evidente perché magari si arriva a sentenza a babbo morto dopo 8 anni dopo 10 anni dove conviene diciamo stare dentro il meccanismo dei processi perché poi alla fine chi delinque ne esce fuori bene ma questo funziona anche per la giustizia penale e basta fare un confronto con i sistemi della Francia e della Germania perché da noi tutti vanno al primo al secondo al terzo grado nessuno smette prima non si sono costruiti quei meccanismi come ci sono negli altri paesi in cui se tu fai diciamo un appello non giustificato poi dici va bene te lo faccio fare l'appello però se tu perdi paghi ancora di più ti prendi più anni pagherai più soldi tutti questi meccanismi fanno sì che per esempio in Francia solo il 40% dei fascicoli vado nel secondo grado io credo che questo sistema convenga un po' a tutti a chi delinque e anche alla politica che si è totalmente dimenticata della partita della giustizia eh sì lo dicevamo prima eppure per esempio sono molti a sostenere che anche gli investitori stranieri non vengono in Italia perché non c'è certezza della giustizia sì allora Ivo la mostra le pratiche sulle tavole magistrate dipende anche dalle leggi fatte no? è certo della mostra ti dico un po' di cose ci sono 40 incontri con scienziati giornalisti esperti di ogni settore perché qui si parla di robotica si parla di tecnologie per la salute si parla naturalmente come dimostra la balena di plastica di salvaguardia dell'ambiente ci sono 200 incontri formativi per bambini da 5 anni in su poi ci sono due bellissime mostre fotografiche una sui ghiacciai del mondo e una sugli animali minacciati ma veramente bella io l'ho vista purtroppo non l'abbiamo potuto far vedere perché lì non c'è modo di fare il collegamento nel frattempo noi ci siamo abbronzati qui insieme a Riccardo nel piazzale dedicato a Luciano Berio e ti dico che la mostra chiude entro domenica domenica chiude ed è chiude in concomitanza con la giornata della terra l'Earth Day quindi io invito chi vuole venire qui a venire perché c'è dell'aria buona c'è del sole e tante cose belle da vedere grazie Ivo May